Tramite il nostro programma è possibile gestire le NASARCO sia relativamente alle fatture ricevute da un agente, quindi ciclo passivo, sia per un agente che emette le fatture soggette al contributo NASARCO, quindi ciclo attivo. Come vedrete, a parte le configurazioni iniziali, che chiaramente andremo a vedere insieme, per l'utente che emette il documento, che registra la fattura ricevuta, è tutto assolutamente automatico, quindi non deve preoccuparsi di fare attività particolari, è tutto automatico. Chiaramente bisogna prima aver configurato correttamente alcune impostazioni. In questo caso entriamo in un'azienda che ho identificato come una ditta mandante con agenti, e quindi in questa azienda ricevo le fatture dai fornitori agenti, quindi io sono la mandante e tra le anagrafiche dei fornitori o degli agenti che mi emettono fattura con il contributo NASARCO. I parametri generali, quindi quelli che dovete eventualmente verificare, controllare, sia per la gestione del ciclo attivo che per la gestione del ciclo passivo, riguardano innanzitutto i conti automatici, quindi se vado in aziende, parametri di base, conti automatici, c'è la voce altri conti che contiene debiti verso NASARCO, contributi e NASARCO e le NASARCO conto agente. Allora, il conto contributi e NASARCO e il conto di costo del contributo e NASARCO, quello che in pratica per la ditta mandante è a carico suo, è a carico la parte di contributi e NASARCO che è a carico della ditta mandante. Per quanto riguarda appunto la registrazione delle fatture ricevute con il NASARCO, il NASARCO conto agente è un conto patrimoniale che contabilizza il contributo e NASARCO a carico dell'agente in fase di emissione documenti con il NASARCO, quindi quando l'agente emette fattura con il contributo e NASARCO, la parte appunto a soccarico è contabilizzata su questo conto. Il conto debiti verso NASARCO viene movimentato sempre in fase di registrazione della fattura ricevuta da un agente, quindi per la ditta mandante, quando registra l'AFR, in pratica verrà contabilizzato il contributo e NASARCO a carico della mandante con il conto che dicevamo prima, il contributo e NASARCO. Il totale delle NASARCO, quindi sia quello a carico suo che quello a carico dell'agente, viene sommato e viene contabilizzato nel conto 415.51 che è un conto di debito. Questo perché? Perché è la ditta mandante che a fine trimestre si preoccupa di collegarsi al sito della fondazione NASARCO, creare la distinta di versamento e versare il contributo e NASARCO, quindi è una sorta di sostituto di imposta, diciamo così, sia quindi per il contributo a carico suo che il contributo a carico dell'agente. Il conto di costo contributo e NASARCO viene utilizzato anche nel momento in cui l'agente che opera in forma di società di capitali registra la propria fattura con il contributo e NASARCO. In questo caso le NASARCO non è un conto patrimoniale che può essere recuperato come nel caso che vedavamo prima per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone, ma per le società di capitali il contributo e il contributo e il NASARCO presente nelle fatture emesse è un conto di costo e deve essere contabilizzato sul conto di costo indicato in questa voce di menu. Questi campi sono già predisposti appunto, i valori di questi campi sono già predisposti dal nostro programma. Altra cosa importantissima prima di iniziare a lavorare, quindi prima anche di porsi il problema se registrare il ciclo attivo oppure il ciclo passivo delle NASARCO è quella di entrare in tabella valori limite e verificare e controllare nella voce gestione del NASARCO le aliquote presenti. Prevediamo la gestione della contribuzione di previdenza e del contributo assistenziale. Il contributo previdenziale è il contributo in NASARCO a carico degli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone. Il contributo assistenziale è il contributo in NASARCO a carico delle società di capitali. Si chiamano tutti e due contributi, uno è il contributo di previdenza e ha delle regole e il contributo assistenziale è quello delle società di capitali che è estremamente diverso come calcolo e come logica rispetto a quello previdenziale. Però come già vi avevo anticipato noi prevediamo entrambe le gestioni una volta verificato che siano presenti le aliquote, le ultime aliquote, quindi eventualmente se non trovate nella vostra installazione fino al 2016 cliccate sul pulsante ripristina valori di default così aggiornate la vostra tabella con le ultime rilasciate da noi e avete già le aliquote previste per gli agenti che operano in questo caso in forma di ditta individuale e società di persone, quindi le NASARCO totale di 14,20. Se andiamo nel contributo assistenziale che è quello per le ditte, per le società di agenzia che operano in forma di società di capitali, sembra uno scioglilingua, anche qui abbiamo le aliquote già rilasciate dalla fondazione fino al 2016, vale sempre il discorso che con il pulsante ripristina valori di default voi aggiornate agli ultimi rilasci fatti da noi relativamente appunto alle aliquote. Vado nel 2014 per farvi vedere che in questo caso l'aliquota calcolata per gli agenti che operano in forma di società di capitali è diversa da quella di prima, quindi non è secca ma è a scaglioni, quindi in base agli scaglioni indicati qui a fianco, quindi in base al progressivo provvigionale raggiunto dall'agente, l'aliquota questa volta è nel primo scaglione che di solito è quello più utilizzato, di solito si arriva principalmente fino al primo scaglione e il totale delle NASARCO per questi agenti, quindi totale, è 3,20, 2,6 a carico della ditta mandante, 0,6 questa volta a carico dell'agente, mentre prima vi ricordate avevamo detto che era un 7,1 a carico della ditta mandante e 7,1 a carico dell'agente, quindi è proprio la percentuale di calcolo che è completamente diversa. Per chi opera in forma di ditta individuale società di persone, oltre all'aliquota di NASARCO al quale è soggetta, c'è un concetto di minimale massimale contributivo, quindi per questi agenti il calcolo delle NASARCO, del contributo previdenziale, che viene anche gestito tramite il minimale e il massimale previdenziale, quindi per esempio per gli agenti che operano in forma di ditta individuale o società di persone che hanno un contratto di tipo monomandatario, deve essere versato come minimale per questi agenti nel 2014, deve essere comunque versato un contributo in NASARCO di 834 euro per i monomandatari, 417 euro per i plurimandatari, adesso faccio un attimino di teoria proprio per capire di che cosa stiamo parlando, che cos'è questo contributo in NASARCO, quindi forse alcuni di voi già sanno già tutto se sto dicendo delle cose scontate, ma vi spiego velocemente come funziona. Dicevamo che per queste tipologie di agenti, società di persone, ditte individuali, c'è un minimale contributivo, mentre per le società di capitale non è previsto nessun minimale o massimale. Gli 834 euro previsti per il minimale contributivo funzionano in questo modo, ovvero se si è registrata almeno una fattura anche solo di un euro per l'anno in questione, la ditta mandante è costretta a versare comunque 834 euro alla fondazione NASARCO, in base ai trimestri e ai mesi di attività del contratto, quindi il minimale è dovuto se c'è almeno una fattura registrata di competenza di quell'anno e questa è l'indicazione del minimale. Il minimale di 834 euro solitamente viene versato suddiviso per trimestre, quindi si avrà circa un 208,5 di minimale contributivo trimestrale da versare. Il massimale significa che per la gente ho registrato imponibili provvigionali fino a 35.000 euro se monomandatario, nelle fatture successive non calcolerò più il contributo in NASARCO perché appunto ho raggiunto il massimale, quindi quando in Business Pass o Mexal registrerò un ulteriore FR dopo aver raggiunto il massimale in NASARCO, il campo del contributo in NASARCO non verrà più compilato proprio perché abbiamo raggiunto il massimale, quindi per l'utente è ovviamente trasparente questa operazione. Stesso concetto, quando il contratto di agenzia è di tipo plurimandatario ovviamente sono diversi gli importi del minimale e del massimale. In questo caso abbiamo già rilasciato per il 2014 quindi chiaramente il minimale e il massimale per i monomandatari e i plurimandatari, per il 2015 la fondazione NASARCO ha già dichiarato qual è l'importo dei massimali monomandatari e plurimandatari, i minimali ancora non li ha dichiarati perché di solito lo fa tutti gli anni intorno a febbraio marzo, quindi il prossimo anno ricordatevi quando è fine febbraio al massimo inizio marzo di cliccare sul pulsante ripristina valori di default per avere sulla vostra installazione le aliquote rilasciate per i minimali della fondazione NASARCO. Il resto, le percentuali previdenze sono già state rilasciate fino al 2016 quindi a meno che la fondazione non cambi le aliquote dichiarate sono già predisposte, idem per il contributo assistenziale per gli agenti che operano in forma di società di capitali sono già stati rilasciati fino al 2016 quindi siamo a posto per qualche anno. Le aliquote FIR sono quelle dichiarate nel 2002, per il momento non sono state modificate quindi sono rimaste ancora in vigore. Anche qui è sempre attivo il pulsante ripristina valori di default per avere le aliquote eventualmente rilasciate dalla fondazione nuove quindi rese disponibili a voi. Il FIR che cos'è? Il FIR è un ulteriore contributo che deve essere versato alla fondazione NASARCO annualmente questa volta è la ditta mandante che in base alle provvigioni liquidate quindi mi raccomando liquidate durante l'anno e deve versare a marzo dell'anno successivo un contributo FIR quindi una sorta di accantonamento alla fondazione NASARCO. L'accantonamento del FIR per le ditte mandanti è calcolato in automatico dal programma quindi avete a disposizione delle stampe per verificarlo e viene calcolato se il contratto è monomandatario o plurimandatario in base agli scaglioni dichiarati. Sono soggetti al FIR anche gli agenti che operano in forma di società di capitali quindi anche per gli agenti che operano in forma di società di capitali è importante andare ad indicare se il tipo di contratto è monomandatario o plurimandatario perché non hanno un concetto di minimale o massimale contributivo ma il FIR che deve essere calcolato per loro subisce delle variazioni in base alla tipologia di contratto appunto quindi queste sono le impostazioni già predisposte dal programma eventualmente appunto verificatele controllatele se dovete iniziare a gestire la NASARCO appunto con noi.